La Luce del Mondo 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 Caravaggio amava questi particolari umani Si vedono i piedi come nella Madonna dei Pellegrini Questi piedi sporchi in primo piano Lo sgabbello vedete inclinato È una figura imperfetta La Chiesa è imperfetta Eppure attraverso questa carne Attraverso questa ombra Passa la luce stessa di Dio E noi vediamo infatti Che Matteo è rivolto verso l'angelo Che sta enumerando le genealogie Infatti il primo capitolo di Matteo Dice Abramo generò Isacco Isacco generò Giacobbe Ed è la storia umana Che porta fino a Giuseppe Lo sposo di Maria De cui nacque Cristo Quel Matteo che è terra È realmente fatto di carne Come ognuno di noi Diviene luce Perché è illuminato dall'angelo Qui l'arte di Caravaggio Ha raggiunto oramai La sua perfezione L'angelo è straordinario Con le sue vesti Che volteggiano Sono solo due figure Bastano l'angelo e Matteo Per dire tutta quanta Insieme la miveglia e la storia E qui Matteo ci dona il Vangelo Quel Vangelo che è chiaramente Cristo Matteo ce lo dona In maniera che noi possiamo Ritrovare Cristo nelle sacre scritture Siamo nel 1602 Spesso si dice che in quel periodo La Chiesa aveva dimenticato la scrittura E invece qui si vede come In pieno periodo controriformista Stiamo andando verso il barocco La scrittura è talmente al centro Della vita della predicazione della Chiesa Che la pala d'altare è di Matteo l'Evangelista Che scrive su un codice Probabilmente anticamente Sarà stato scritto il Vangelo su una pergamena Ma qui è già il codice Che è la forma del libro Che poi si affermò Dagli ultimi anni dell'ellenismo in poi Permetteva di radunare tanti fogli Di scrivere testi molto lunghi Quindi di radunare tutti quanti i libri biblici In un unico codice Ecco lo sguardo Il viso dell'angelo Che è semplicissimo e straordinario Le mani rugose Le mani fatte di carne Che si incontrano con la meraviglia del cielo Che illumina la vita dell'uomo E attraverso l'uomo Illumina gli altri uomini Attraverso la scrittura Illumina l'umanità intera E attraverso la scrittura